Ricomincio da me un progetto per un adeguato orientamento che ha coinvolto tanti ragazzi del VCO e ha prodato a Roma diventando un modello da imitare per donare un futuro alle nuove generazioni. I risultati del convegno romano sono stati esposti alla Gran Hotel Majestic di Verbagna. Il nostro progetto è riuscito a mettere insieme enti molto diversi tra di loro, anche dissonanti e ha avuto una certa attenzione dagli organizzatori del convegno. Proprio perché siamo in linea con quello che si è discusso il 23 e il 24 e cioè creare una eterarchia, quindi una collaborazione plurima di soggetti dissonanti però per creare qualcosa di particolarmente efficace, cioè far maturare nei nostri ragazzi una nuova skill, il pensiero prospettico, la capacità decisionale che possono e devono utilizzare in tutte le scelte della loro vita. Quanti ragazzi sono stati coinvolti e come si è strutturato il progetto? Sono stati coinvolti più di 200 ragazzi appartenenti a 14 scuole. Il progetto ha previsto azioni di formazione destinata ai docenti, agli alunni e anche ai genitori, questa è una novità. E poi azioni invece laboratoriali e lavorative, per cui i nostri ragazzi si sono cimentati nei laboratori come negli alberghi, a Villa Taranto, presso l'Alessi, cercando di capire anche, comprendere quali attitudini effettivamente hanno. La fondazione comunitaria del VCO ha creduto fortemente nel progetto con 30.000 euro. Sì, noi abbiamo sostenuto questo progetto e abbiamo avuto, diciamo, credo un ruolo sia di soggetto finanziatore, perché c'era bisogno di mettere un po' di benzina in questo motore, ma soprattutto ci è molto piaciuto il fatto di poter essere un soggetto che ha promosso la costruzione di questa rete e quindi abbiamo stimolato le relazioni tra questi diversi soggetti che poi ha dato origine a questo progetto. Alla fine di questo progetto siamo certi che poi tutto questo patrimonio di rapporti, di relazioni e di connessioni che interessano tutto il territorio provinciale poi sicuramente proseguirà.